La parata di Meret, la parata di Meret, Kvara Zveglia mette in mezzo su un dombele che la perde questa volta, Leao, Leao può partire, Leao, Leao attaccato al dombele, Leao innesca la marcia alta, Rafa, Rafa se ne va, 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 GOL! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! La parata, la presa, la presa, la presa Mike, Peterson, Meglion! La P di Peterson e la P del cielo! Kvara Zveglia, Kvara Zveglia, Salemekers soffre, la palla di qua, ancora il Napoli, il Napoli la mette in mezzo, altra palla, colpo di testa, GOL! Colpo di testa, GOL! Eh, viene, viene pressato, Meglion! E' finita, è finita ragazzi, siamo in semifinale, grazie ragazzi, grazie ragazzi, applaudiamo questo evento, applaudiamo il Napoli, applaudiamo il Milan, bravi tutti! Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi!